Gli effetti del reato, quelli veri, li viviamo ogni giorno e Lavinia li vive sulla sua pelle. Non tornerà mai più la bambina di un tempo. La bambina, secondo l'accusa, è stata lasciata lì e la maestra è rientrata nell'asilo, quindi in qualche modo era sola. Nella penultima udienza hanno parlato due donne, due mamme, amiche della maestra evidentemente, che addirittura sono andate contro i loro figli pur di difendere l'onorabilità della maestra. E a chi l'ha lasciato? Alla scuola. Lo ha lasciato alla scuola ben sapendo che all'interno dell'asilo c'era solo una bambina di 10 anni che potesse tenerlo. È questo che mi sta dicendo. Sì. La legge si è sostenuta che noi abbiamo tutto, che 12 ore al giorno ci basta. Non si è capito che quel giorno la nostra figlia ha strappato tutto per sempre. Combattiamo con voi. Con la vigna e per la vigna. Allora, qui ci sono i genitori di Lavinia, Lara e Massimo. Io conosco questa famiglia ormai da tempo. Lara questa mattina è in lacrime. perché ci deve dire delle cose che sono molto spiacevoli e che fanno molta rabbia. Ricordiamoci sempre che c'è un processo in corso, che noi dobbiamo assolutamente fare attenzione perché ci sono due parti contrapposte. Sono rimasti i nostri ospiti. Innanzitutto volevo chiedere che novità ci sono. Ricordo che, e questo lo chiedo a voi, ecco, che Lavinia adesso è in uno stato praticamente vegetativo. Questo lo dobbiamo sottolineare perché dopo questo incidente la bambina stava bene, stava benissimo, non aveva nulla. Era una bambina sanissima, correva, giocava. Dopo questo incidente che è stato causato da quest'automobile e dal non controllo appunto della bambina, quanto aveva lei? 16 mesi. 16 mesi, potete immaginare, motivo per cui c'è un processo in corso, questa bambina è entrata in uno stato vegetativo. Allora, novità, quali sono? Novità dolorose. Continua ad essere un processo molto duro questo perché in particolare abbiamo denunciato una testimone della difesa delle imputate in quanto ha fornito una versione dei fatti totalmente divergente sia rispetto a quanto aveva dichiarato alla polizia due mesi dopo l'incidente sia rispetto a quanto hanno dichiarato tutti gli altri testimoni in aula. E quindi, ecco, la novità è questa. Alla polizia questa persona aveva dichiarato di essere arrivata con ritardo all'asilo, di aver notato che non c'era nessuna maestra all'interno dell'asilo e che stranamente, ho usato proprio questa espressione, stranamente, ad aprirle c'era solo questa bambina di 10 anni in aula. Questa versione non è stata più confermata. ha dichiarato invece di aver incontrato la maestra mentre già aveva abbandonato di fatto tutti i bambini dell'asilo mentre stava portando nostra figlia in ospedale e in questo incontro la maestra le avrebbe detto da macchina a macchina di andare a vigilare sui bambini rimasti da soli. Nessuno ha mai confermato questa versione, non ce n'è traccia da nessuna parte. Quindi per questo, proprio perché non si tratta di una dimenticanza ma di una versione che è apparsa totalmente diversa, noi abbiamo denunciato per falsa testimonianza la testimona, ricordando che è un reato gravissimo che può comportare dai 2 ai 6 anni di reclusione. Allora adesso io manderò in onda un verbale dell'interrogatorio di una testimone che non è la stessa, che è praticamente una delle testimonianze che è stata ascoltata in una delle ultime udienze nelle quale emergono le contraddizioni in un primo momento rilasciate alla polizia. Sentite. Ecco. Della maestra, della mamma insieme alla maestra, però l'ho incrociata a pe... Quindi in quel momento, davanti alla polizia, diciamo, ha fatto... No, mi... non... Quella dichiarazione, perché era quella la cosa che ricordava un... Che ricordavo in quel momento. Oh. Poi non... Magari non mi è stata fatta la domanda, quindi io... non ho... Senta, arriviamo però allora a questo... Non l'ho... Perché la descrizione di questo incontro prima è stata piuttosto fugace. Lei vede... Sì. Diciamo, o meglio, si incrocia con questa macchina. Lei ha detto non era la macchina della maestra, era la macchina di un'altra mamma, di ma... Lei conosceva questa persona e quindi chi portava questa macchina? Sì che era sempre la mamma di una bambina, che ci incontravamo a portare le... i figli a scuola. Quindi Lavinia non l'ha vista, non l'ha riconosciuta? No, non... Lei innanzitutto la... la... la saprebbe riconoscere, sa chi era questa bambina? Sì, 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 sì. Quindi lei non l'ha vista? No. La maestra non ce l'aveva in braccio? No, no. Non l'ha vista? Non ho visto, non... Va bene. Non lo so, non... Allora, questa è... mi dicevi... Sì, questa è proprio la mamma che abbiamo denunciato, è la mamma di... Ma perché secondo voi racconterebbe delle bugie? Ma a parte che, diciamo, questo stralcio già dimostra in qualche modo che i suoi balbettamenti, le sue insicurezze, insomma, tra l'altro sia quando è stata sentita dal Pubblico Ministero ma anche dal suo avvocato, quindi insomma, si percepiva anche in aula, la nostra impressione era quella da genitori che ci fosse qualcosa che non andava e poi racconta di aver incrociato questa macchina, non precisa a precise domande del giudice se dentro questa macchina c'era o meno la bambina, se la maestra le ha detto o meno qualcosa, quindi è sembrata proprio una cosa appiccicata lì e soprattutto una cosa non dichiarata alla polizia, tra l'altro. Il giudice le ha anche chiesto perché non le ha dichiarate e lei anche lì ha detto due o tre cose che non si sono capite, un vero e proprio farfugliamento. Quindi è evidente il suo tentativo, essendo un'amica ultradecennale della maestra imputata di abbandono di minore, di aiutarla nel senso che di mitigare un po' la sua posizione di secondo abbandono di minore, perché vorrei ricordare, lo dico sempre da genitore poi lascio ai tecnici spiegazioni più precise, che comunque c'è stato un doppio abbandono di minore, la vigna che è stata abbandonata nel parcheggio dell'asilo e poi investita e poi per soccorrere, diciamo così, in maniera improvvida perché non è stato chiamato al 118, la vigna, sono andate in ospedale, lei è l'investitrice e hanno lasciato gli altri bambini nell'asilo, tra cui l'altro nostro figlio di tre anni. Quindi non quella mattina ci poteva essere una strage, una vera e propria strage. Non dimenticare l'onora che poi in tutto questo bailam c'è stata la chiamata urlante, che io quella è una delle cose che quando ci penso mi fa più rabbia, la chiamata urlante della maestra alla mia compagna per dire che la vigna, la vigna, la vigna e lei se non fosse stata seduta in un ufficio, ma poco prima era la guida di un mezzo, perché comunque non funzionava dei vigili del fuoco, poteva rischiare di fare un incidente a sua volta. Quindi io quando ci penso veramente non ho parole, scusami, ma è una cosa che mi lascia proprio scosso. Ma perché non c'era una protezione, scusami, dove è avvenuto esattamente l'incidente? La protezione c'era, ma in realtà è avvenuto, fuori dell'asilo c'era un'area giochi e un piccolo parcheggio, perché questo è un asilo di campagna dove ci si andava soltanto a portare i bambini. Però spesso volentieri c'è un'area giochi e un piccolo parcheggio. Ma c'erano dei cancelli, solo che non sono stati chiusi, quindi la bambina è stata lasciata da sola con i cancelli aperti, sia dell'area gioco e sia del parcheggio. E quindi chiaramente non andava lasciata sola, ma in più... Una bambina di 16 mesi lasciata sola, senza nessun tipo di controllo da parte di un adulto, della maestra o di chi doveva vigilare su di lei, con i cancelli aperti. No, ma poi anche se non ci fosse stato il postencio vicino, cioè comunque una bambina di 16 mesi non la lasci da sola, perché chiunque vuole passare e portartela via, ma non esiste al mondo. Io ho avuto modo di parlare con questi due genitori meravigliosi, perché io ammiro la vostra forza, il vostro coraggio, la vostra fede, perché credo che la fede vi aiuti molto in questo caso. la cosa che mi ha più sorpreso, Eleonora e tu da mamma lo puoi capire molto, molto bene, è il fatto che la persona che diciamo si è macchiata di questo, secondo me, reato enorme, infinito, non lo posso neanche descrivere perché è meglio che io non lo descriva, non sia stata in grado di empatizzare con loro, non sia stata in grado di abbracciarli. È perché poi arrivano i processi, tu questo lo sai bene, Irma, no? Non è che se ti chiedo di dire mi dispiace, ti chiedo perdono, vuol dire che sono... Irma, lo sai bene, quando arrivano i processi spariscono tutti, improvvisamente nessuno chiama nessuno, nessuno dice sbagliato, è colpa mia, è perché poi iniziano le difese, no? Le difese, le accuse, le difese. C'è un processo in corso e quindi non ne parlo perché non stiamo facendo qui il processo, purtroppo il processo dovrebbe servire... No, io infatti ne parlavo in generale, non in questo caso. Esatto, questa è la mia premessa per dire, purtroppo è vero, si vengono delle distanze quando invece dinanzi a incidenti, ma fatti così gravi però, perché qua il fatto grave è oggi quello che ci ha raccontato la mamma di Lavinia e quindi di una bambina di 16 mesi non riesco neanche a dirle, avete tutta la mia vicinanza per quanto possibile perché veramente il fatto è che il processo dovrebbe accertare la verità ma non porre questa distanza nei confronti di chi ha subito, di Lavinia e dei genitori e dell'altro fratellino, tra l'altro, perché qui c'è anche un altro fratellino che era presente quel giorno e che era presente là dove è successo questa grandissima disgrazia nei confronti di Lavinia. Allora, Roberto Alessi è rimasto, Don Gaetano. Sì, Eleonora, si resta senza parole, Lavinia è in stato vegetativo a qualche anno e quindi aveva 16 mesi all'ora ed è la vostra ragione di vita, questo è sicuro, perché avete concentrato in lei ogni cosa e quindi questo penso che sia anche il coraggio che vi viene per stare sul pezzo e perché la verità si compia. E a tutto tondo si dice che la verità ha comunque da fare il suo corso anche quando noi proviamo a nascondere situazioni che possano anche pensare, calcolare, vantaggi, svantaggi, davanti ad una vita non ci sono vantaggi e svantaggi, c'è la vita e da quello tutto il resto, che poi insomma se richiede delle responsabilità queste si assumono e si assumono perché non accada più a nessun altro, non solo lì nel luogo dove è accaduto, ma anche in altri contesti. Ecco Roberto, la maestra ovviamente si difende, c'è un lungo interrogatorio dove racconta e parla di quella mattina, Alessi? I fatti sono questi, al di là del processo e della prudenza che dobbiamo avere, che Lavinia è in stato vegetativo perché c'è stata una persona che non si è comportata come avrebbe dovuto comportarsi. Sono assolutamente d'accordo con le parole di Samantha De Grenet, se io fossi stato però colpevole di un certo comportamento che ha portato a questa conclusione terribile, io vorrei espiare altro che difendermi, altro che solidarizzare con amiche decennali, io vorrei espiare perché è l'unico modo per stare bene, per mettere in pace la mia coscienza di fronte a una bambina di pochi mesi che in questo momento vive in un letto, che non può neanche godere della carezza di genitori che le vogliono bene e che la avegliano tutto il giorno. Io vorrei veramente espiare perché è l'unico modo per ritrovare una mia serenità di fronte a un fatto così grave. Invece i genitori denunciano addirittura delle false testimonianze, cioè stiamo parlando di una bambina di 16 mesi e voi state parlando non solo di un pentimento da parte di nessuno, ma addirittura secondo voi, secondo l'accusa, ci sarebbero anche delle testimonianze che non sono coerenti con la realtà. Assolutamente, poi c'è una cosa che lo voglio dire che è assolutamente vergognosa questo video che sta demandando in onda di Lavinia che gattona, è un video che si riferisce a pochi giorni prima dell'incidente di quel setta rossa. Lei era così. Allora questo video che noi abbiamo pubblicato su un sito dedicato a giustizia.it è stato più volte citato in aula dalla difesa perché dimostrerebbe che Lavinia era in grado di muoversi così velocemente da sottrarsi al controllo della maestra. È stato detto dall'avvocato che Lavinia si sottratta al controllo della maestra. Poi tra l'altro è da pensare che Lavinia qui sta salendo le scale, secondo l'assurda ricostruzione che viene fatta dalla maestra, Lavinia avrebbe percorsi in pochissimi secondi un percorso in discesa, che è ben diverso dalla salita, avrebbe attraversato cancelli, sterrati. Ma a noi fa male che questo video venga riproposto ogni volta in udienza. La prima cosa che viene fatta in udienza è che questo video deve essere messo agli atti. Noi non ho parole. Io spero che i giudici saranno abbastanza e sufficientemente intelligenti per non dare forza a una spiegazione. Però fa male, al di là del giudice, fa male sentirlo dire in aula. Questo al di là della verità che va ricostruita in processo. Lo raccontiamo bene al nostro pubblico. Questo video che noi abbiamo mandato, ma noi l'abbiamo mandato per mostrarvi come stava Lavinia prima e come ora, rispetto ai racconti dei genitori, è stata ridotta. Cioè Lavinia non si muove più, ha bisogno di essere continuamente accudita, è sul lettino della sua cameretta e sta sempre lì. Cioè la vita di questa bambina è stata rovinata per sempre. Come è stata rovinata la vita di questi genitori è anche la nostra sentire questa storia. Una storia che è veramente paradossale perché uno porta una bambina in un asilo e in quell'asilo vorrebbe, come in tutte le scuole del mondo, vorrebbe che il proprio figlio sia tutelato, sia protetto, ma soprattutto protetto, anche fisicamente protetto. E invece questo, a quanto noi stiamo sentendo, non è accaduto. Ora, ripeto, c'è un processo in corso per cui noi non possiamo puntare il dito contro nessuno, ci mancherebbe altro. Ma se non altro, il racconto è questo. Quella bambina, il racconto dei genitori è questo. Quella bambina quella mattina era sola. Non è che una bambina può correre, vede una macchina, capisce che cos'è una macchina, corre da sola. Dice, aspetta un attimo che mi allontano da questa macchina perché potrebbe investirmi. Ma non è che un bambino possa avere una struttura né fisica né mentale per poter scappare a un pericolo di quel genere. Qual è il vostro appello questa mattina? Il nostro appello è sempre lo stesso. Noi rincorreremo fino a chi arriverà la sentenza, rincorreremo la giustizia, quella pochissima giustizia che la vigna potrà avere, perché comunque nessuno ce la restituirà per quello che era. Continueremo sempre a batterci affinché abbia un'assistenza adeguata, perché purtroppo la coperta dal punto di vista dell'assistenza è sempre molto corta. Abbiamo sempre le nostre 12 ore con degli inevitabili buchi, purtroppo, perché il momento è difficile dal punto di vista dell'assistenza. Abbiamo altri due figli da accudire. Vorremmo per la vigna la qualità di vita migliore possibile. Quindi il nostro appello resta sempre questo. E noi ci siamo per accogliere i vostri appelli. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Vi prego portate dal nostro cuore, dall'affetto di questi mesi che stiamo raccontando questa storia. Un bacio, un grande bacio alla piccola Lavinia. Grazie.